Buonasera telespettatori di Seila TV, ben ritrovati allo spazio dedicato all'informazione. Andiamo subito insieme a vedere quali sono le notizie principali della giornata con i titoli del sommario. Orio alvia l'indagine epidemiologica, ma intanto il piano di sviluppo aeroportuale viene stoppato dal Ministero delle Infrastrutture. Rondò dell'A4 aprono due nuove piste, torna il collegamento tra circonvallazione e asse, finalmente il traffico si scioglie. In città si torna a parlare di moschea nel PGT, ma la Lega si oppone di nuovo. Mense scolastiche Bergamo si conferma alla top e ottava in Italia nella classifica dei menù redatta da Food Insider. L'aeronautica militare compie cent'anni e offre un corso agli studenti bergamaschi per avvicinarsi alla cultura del volo. La tanto attesa indagine epidemiologica sull'aeroporto di Orio al serio è in corso e i risultati saranno presentati entro novembre da ATS e SACBO. Si tratta di un passaggio fondamentale per andare a scoprire se ci sono e nel caso quali sono gli effetti che ha l'attività dello scalo aerobico sulla salute dei cittadini. L'aeroporto di Orio al serio e ATS Bergamo hanno sottoscritto un accordo per dar vita all'indagine epidemiologica obbligatoria richiesta dal Ministero delle Infrastrutture prima di dare il via al piano di sviluppo aeroportuale 2030. Il passaggio dell'indagine è tra i più attesi perché certificherà quanto effettivamente i residenti dei comuni limitrofi allo scalo risentano in termini di salute dei voli. È un dovere rispetto anche al grande tema dell'attenzione al territorio, al tema della sostenibilità, al tema appunto della rilevanza ambientale e dei cittadini che vivono nei pressi dello scalo perché venga fatta chiarezza su eventuali questioni che possono esserci da un punto di vista sanitario, epidemiologico così come l'ATS ha ben indicato e ha ben illustrato. In realtà i monitoraggi sono costanti da parte di ATS e riguardano tutta la provincia. L'indagine specifica si concentrerà però su 10 comuni, Azzano, Bagnatica, Brusaporto, Grassobio, Laglio, Orio, Serie A, Testezzano, Treviolo e quartieri di Bergamo più vicini allo scalo. Gli indicatori attenzionati saranno l'indice di mortalità, l'insorgenza di patologie cardiovascolari e respiratori, tumori e l'utilizzo di farmaci che facciano pensare a disturbi generati dagli aerei. L'importanza dell'accordo che abbiamo sottoscritto con SACBO è relativa al lavoro che ci aspetta da qui ai prossimi 18-24 mesi. Andremo a fare un'indagine sul campo, ad incontrare la popolazione, a verificare lo stato di salute entrando direttamente nelle case della nostra gente e offriremo gli esiti di questo lavoro a tutta la popolazione ritenendo in questo modo di adempiere la funzione istituzionale della nostra agenzia che è poi il mandato che anche SACBO ci ha dato all'interno di questa convenzione. SACBO, società che gestisce il Caravaggio di Orio, ha anche precisato la questione del ritardo di 10 mesi nell'avvio di questa indagine, ritardo che a quanto pare non è tale. Il procedimento non è ancora concluso e pertanto quando sarà concluso il Ministero attuerà l'osservatorio che verificherà tutta l'attività di monitoraggio e soprattutto i dati che noi presenteremo sulle centraline, della qualità dell'aria, del rumore, per quanto riguarda le indagini varie, sanitarie, epidemiologiche. Restiamo in tema da aeroporto perché c'è un inghippo per quanto riguarda il piano di sviluppo aeroportuale di Oriol Serio. Come abbiamo sentito nel servizio, l'indagine epidemiologica è solo uno dei tasselli necessari appunto per il piano di sviluppo. È stato ottenuto il via libera da parte della via e della VAS che riguardano appunto l'aspetto ambientale, però Oriol Serio attendeva dal Ministero delle Infrastrutture anche l'ok per il piano urbanistico. Il Ministero però ha respinto la proposta. Ancora non sono state date le motivazioni ma sembra che il motivo sia riconducibile ad una zona cuscinetto tra l'aeroporto e la zona militare attigua che sarebbe interessata da un intervento di ampliamento della sede stradale. In effetti su questo aspetto era arrivato un parere contrario del Ministero della Difesa, l'unico tra tutti quelli convolti. Se così fosse non sarebbe un problema, ha sottolineato il Presidente Sanga che ne ha dato notizia questa mattina in conferenza stampa e in questa intervista spiega il perché. No, abbiamo avuto il parere negativo sulla conformità urbanistica a fronte di una procedura che è stata attivata dove di fatto l'unico parere contrario, questo lo dice Enac, non è che lo dica io, no, l'unico parere contrario alla conformità urbanistica è stato quello del Ministero della Difesa per un'area che veniva evidenziata da parte nostra come un'area finalizzata poi ad un miglioramento della viabilità ma che discuteremo e vedremo con il Ministero delle Infrastrutture già dalla prossima settimana. La cronaca giudiziaria, ora torniamo sul caso dell'omicidio di Bottanuco di Gian Battista Corna ucciso dal padre al seguito dell'ennesima lite per denaro. All'uomo sono stati concessi i domiciliari. Paolo Corna, 77enne, ha ucciso con tre coltellate il figlio Gian Battista, sullo sfondo droga, alcol e depressione. Bottanuco, casa di famiglia, una litigata per l'ennesima richiesta di denaro del figlio che ogni mese consegnava lo stipendio ai genitori ricevendo una paghetta quotidiana. Il tentativo era quella di controllarne le spese per evitare di farlo ricadere nel vizio. Tutto vano, quel giorno l'ennesima sfuriata per avere altri soldi, finita poi nell'aggressione fatale del padre, arrestato dai carabinieri. Poi ricovera in psichiatria il Papa Giovanni dopo un brevissimo passaggio in carcere. È controllato a vista, il pericolo è l'autolesionismo, le condizioni psicologiche sono ai limiti. Il giudice ora ha disposto gli arresti domiciliari e Corna è ospite di un cugino della moglie, dove possono visitarlo le altre tre figlie. Continuerà il supporto psichiatrico per un uomo in età avanzata che ha compiuto un gesto drammatico in seguito ad una insopportabile esasperazione. Sul piano giudiziale tutto sembra portare alla fase processuale senza grandi sorprese scaturite dalle indagini. Gli omicidi in famiglia hanno l'aggravante della parentela che non consente riti abbreviati. Nonostante l'età, il rischio potrebbe essere il carcere a vita. In città ora procede spedito il cantiere del rondò dell'A4, sono state aperte due nuove direttrici. Viene ripristinato il collegamento con l'asse dando così un sollievo decisivo al traffico. Non sembrerà vero agli automobilisti bergamaschi il vedere l'asse interurbano nel tratto compreso tra rondò di Campagnola e l'ingresso dell'autostrada così sgombro dal traffico. Nella notte tra giovedì e venerdì infatti sono state aperte due nuove piste, stavolta davvero fondamentali per sciogliere i primi nodi. Entrambe si imboccano provenendo proprio dal rondò di Campagnola. La prima è quella che porta verso Curno, consentendo di evitare il passaggio dal vecchio rondò e tirando dunque dritto incrociando poi chi proviene da Oriel serio lungo l'asse e passando sotto al rondò di Colognola. La seconda pista è quella che invece porta diretti all'ingresso dell'A4 percorrendo un tratto del vecchio rondò dell'autostrada. Di fatto si sblocca quell'unica bretella stretta ad una corsia obbligatoria da percorrere per tutti fino a ieri. Ora dunque si respira davvero e lo si fa anche in anticipo sui tempi. Le scorse settimane erano state aperte altre due rampe, una che portava verso le valli e una che portava verso il centro città, con tre corsi aperti in questo senso. Era stato un bel segnale ma non aveva dato la sterzata che ha dato invece l'ultima inaugurazione. L'assessore regionale alle infrastrutture Claudia Maria Terzi ha ribadito che i lavori saranno completati per la primavera del 2024. Restiamo in città con la presentazione del piano di governo del territorio da parte della giunta Gori. Si è riaccesa la polemica e la discussione sulla presenza della moschea a Bergamo e la Lega ha ribadito il suo deciso no. Scontro tra le parti in aula nel terzo consiglio comunale dedicato al piano di governo del territorio. Argomento del giorno il piano delle attrezzature religiose, per la maggioranza da intendersi come l'individuazione di quattro aree della città dove potranno nascere nuovi luoghi di culto dedicati a qualsiasi aggregazione religiosa. Per le minoranze l'ennesimo tentativo di costruire una moschea in città. L'assessore competente Giacomo Angeloni spiega le ragioni del provvedimento che lunedì, salvo sorprese, sarà votato e ratificato. Concentrare la partecipazione, afferma l'assessore, in un unico centro può rappresentare un presidio di sicurezza. È la Lega il partito più resistente al cosiddetto PAR. Noi troviamo oggi come oggi nel PGT un elenco, ma non si capisce di cosa stiamo parlando. Sappiamo che c'è una struttura o una funzione che ha a che fare con la religione, ma in quell'elenco non capiamo se si tratta di luoghi di culto, di quale culto, di che religione. Non si capisce se è l'abitazione del sacerdote, non si capisce se ci sono attività educative, se sono sedi di associazioni. Anche l'assessore Valesini interviene nel merito ricordando che esistono varie confessioni religiose, oltre a quella di matrice islamica. E non si può discriminarle tutte per osteggiarne una. 61 gli emendamenti presentati dalle minoranze, bocciatura totale del PGT, tante criticità ed un cenno particolare alla questione aeroporto. Sicuramente dal punto di vista della città verde, di una città più attenta a sostenibilità, non mi sembra che ci sia stato un cambio di dirotta sul discorso aeroportuale e inquinamento acustico ambientale dato dall'aeroporto. La guerra in Medio Oriente continua a mietere vittime, soprattutto tra i civili, e a seminare distruzione. A sette giorni dall'attacco di Hamas, l'Associazione Culturale Italia-Israele Bergamo promuove un flash mob di solidarietà alla popolazione. L'appuntamento è per domani, sabato 14 ottobre, alle 11, agli spalti di Porta San Giacomo, in Città Alta, per tutti quanti vorranno manifestare e dimostrare sostegno al popolo israeliano. E farà piacere sapere a mamme e papà che gli studenti bergamaschi godono di una tra le migliori mense scolastiche, almeno per quanto riguarda i dati rilevati da Food Insider. Bergamo è l'ottavo posto in Italia per la qualità delle sue mense scolastiche. Lo rivela il report di Food Insider, l'osservatorio che ogni anno monitora la ristorazione di asili elementari e medie, che su suolo orobico distribuiscono mediamente 4.500 pasti al giorno. Almeno l'80% dei cibi consumati in mensa sono prodotti biologici, il 30% DOP e IGP, con i legumi che in un terzo dei menu analizzati diventano un vero e proprio secondo piatto. In generale si è investito su piatti più equilibrati e rispettosi dell'ambiente, prestando attenzione alla riduzione della plastica. Eppure il problema dello scarso consumo del cibo in mensa rimane all'ordine del giorno. Un terzo dei bambini rifiuta il cibo a priori, un'altra porzione ha paura di assaggiare nuovi piatti e solo una piccola percentuale, pari al 14% degli studenti, ha dichiarato di mangiare con gusto. La lotta allo spreco alimentare va comunque avanti. Il numero dei pasti giornalieri donato alla mensa dei poveri su suolo orobico è in continua crescita e nel 2022 si è toccato soglia 45.000, ben 150 pasti gratuiti offerti al giorno. Imparare a pilotare un aereo, a gestire le operazioni di sicurezza in volo è quanto hanno potuto avere gli studenti delle scuole bergamasche grazie ad un corso organizzato dall'aeronautica militare e i migliori di loro voleranno direttamente a Guidonia. Il fascino del volo è ancestrale, appartiene alla genere umano da sempre, ma per qualcuno è molto di più. La passione si trasforma in professione, fin da ragazzi. Ecco allora che l'aeronautica militare ha offerto agli studenti di otto istituti superiori cittadini un corso di cultura aeronautica, un'esperienza immersiva di due settimane che coinvolge 185 studenti. Bergamo è la prima tappa dell'anno scolastico 2023-2024 e si inserisce sia nell'ambito della capitale della cultura italiana sia nei festeggiamenti del centenario dell'arma azzurra. I ragazzi hanno potuto volare sull'aereo C.I. U-208 del sessantesimo stormo con la livrea realizzata per l'occasione sulla quale campeggia l'aquila turrita, simbolo dei piloti militari. Corso di cultura, città della cultura, l'associazione inevitabile, quindi quale miglior modo di iniziare l'anno scolastico e quindi di conseguenza la programmazione dei corsi di cultura aeronautica valorizzando a fine anno quella che è una tappa fondamentale per la città di Bergamo sia essere insieme a Brescia la città della cultura, valorizzando anche il nostro centenario aeronautico. L'obiettivo è avvicinare i giovani al mondo aviatorio con le sue complessità e sfaccettature per scoprire tutte le opportunità professionali che ruotano intorno al settore. Conoscere le peculiarità, le professionalità che vanno dalla parte manutentiva alla parte gestionale fino anche poi al pilotaggio che è quello che invece di solito attira l'occhio. Il mondo aeronautico lo dobbiamo legare inevitabilmente alla passione aeronautica. La passione non è legata a un percorso di studi pregresso, quindi in effetti si apre a tutti perché venendo a contatto con questo mondo, anche se per dirgli si è partiti con l'artistico si può trovare qualcosa che ci appassioni. I ragazzi affrontano lezioni teoriche di aerodinamica, regole di volo e sicurezza, cenni di meteorologia, prove e pratiche di volo presso l'aeroporto di Valbrembo. I migliori ai test finali vinceranno uno stage presso il sessantesimo stormo di Guidonia, un'occasione in cui i ragazzi potranno vestire i panni di un pilota dell'aeronautica militare ai comandi dell'agliante Twinastir. Brevissima pausa pubblicitaria, ci ritroviamo per parlare ancora di un'iniziativa per gli studenti e la pagina sportiva. Restate con noi. Ben ritrovati nella seconda parte del nostro telegiornale che apriamo con un'iniziativa dedicata agli studenti. Bergamo ha ospitato le Olimpiadi di Informatica. Sono arrivati studenti da tutta Italia per confrontarsi su programmi e algoritmi al Paleocapa. Il mio nome è Luca della Versana, ho 16 anni e vengo da Roma. Deniz, vengo dalla Puglia. Sono Alessandro Lombardo, vengo da Paternò in provincia di Catania. Sono 104 gli atleti che questa mattina si sono sfidati a colpi di problemi e algoritmi nelle Olimpiadi Nazionali di Informatica, che quest'anno si sono tenute a Bergamo, presso l'Istituto Paleocapa. Hanno 3, 14 e 17 anni, vengono dalle scuole di tutta Italia con il numero maggiore, ben 34, proveniente dalla Lombardia. Tra di loro ci sono anche 5 bergamaschi. Mi chiamo Raffaele, studio all'Istituto Russana qui a Bergamo e è il primo anno che partecipo alle Olimpiadi di Informatica, è il primo anno che arrivo in finale e è stata un'ottima sfida per superare le mie capacità. Non è la prima volta che provo a partecipare, ma è la prima volta in cui riesco ad arrivarci e le ho trovate difficili, che me lo aspettavo, non credo di aver vinto, ma vabbè, non è l'importante adesso. Questa è ormai la mia terza finale nazionale di informatica, quindi sono abituato, i problemi non mi causano più così tanta difficoltà, però è sempre bello, anche perché questa è la mia ultima gara, sono di quinta, è andata bene. 94 degli atleti selezionati per la prova sono maschi, solo 10 le ragazze, un numero sostanzialmente in linea con gli scorsi anni. Poche, ma agguerrite, non demordono e si rivolgono alle bambine e alle ragazze, amanti dell'informatica. Essere selezionata come ragazza è stato un onore alla fine, perché vuol dire che comunque ci siamo, nonostante siamo poche, ci siamo. Per me è stato quasi un gioco scoprire queste competizioni all'informatica. Non abbiate paura ad affrontare questo tema, questa materia, perché può aprirvi davvero tante strade. La prossima tappa sarà l'Egitto, dove i vincitori delle Olimpiadi nazionali rappresenteranno l'Italia nel mondo. Voltiamo pagina, lo sport, dopo il rientro di Coop Miners dal ritiro con l'Olanda, tre settimane di stop per lui, arriva un'altra brutta notizia in casa Atalanta. In queste settimane gli impegni di 13 giocatori con le rispettive nazionali. Matteo Ruggeri, uno degli uomini più in forma, ha rimediato infatti la sospetta rottura dell'assetto nasale durante un allenamento dell'Under 21 azzurra. Incredibile la causa dell'infortunio, secondo quanto riferisce l'Ansa, Ruggeri ha ricevuto un pugno dal compagno di squadra Marco Nasti, attaccante del Bari. Ruggeri è tornato dunque a Bergamo per curarsi e Nasti è stato escluso dal gruppo degli azzurrini. Nelle prossime ore si capirà se l'esterno nero azzurro dovrà saltare le prossime sfide in calendario con la maglia dell'Atalanta. La Serie C, l'Albino Leffe, scende in campo stasera a Zanica alle 20.45 per sfidare la Virtus Verona. Una gara complicata, ma i blu celeste sono alla disperata ricerca di punti dopo un brutto inizio di stagione. Parliamo ora di una bella iniziativa che vede i protagonisti, l'Albino Leffe, l'Associazione Italiana Calciatori e il Marchio Spacca. Le tre realtà si sono unite per consentire ai calciatori, una volta appese le scarpette al chiodo, di ricostruirsi una propria vita lavorativa attraverso le dinamiche offerte dal franchising. Spesso infatti la fine della carriera crea notevoli problemi ai calciatori ed è per questo che l'Associazione ha voluto fidarsi a realtà solide come Albino Leffe e Spacca, già partner da diverso tempo, per contribuire al post-carriera dei giocatori. Il franchising è stato scelto perché rappresenta un processo consolidato con bassa marginalità di errore dove tutto è studiato, standardizzato, consolidato e provato. Ed ora il volley perché le ragazze del volley Bergamo tornano in campo domenica 15 ottobre alle 17 per la seconda giornata di campionato. È il giorno che segna una nuova epoca per il volley che farà il suo debutto al Palafacchetti di Treviglio dove si disputeranno le partite casalinghe di questa stagione in attesa del nuovo palazzetto dello sport cittadino. Il volley Bergamo reduce dalla vittoria all'esordio, ospita Megabox Valle Foglia. Sabato 14 alle 10.30 in piazza Cameroni a Treviglio le giocatrici e lo staff saluteranno i tifosi e i piccoli appassionati con distribuzione di gadget e lezioni gratuite di volley. Andiamo ad ora a scoprire se l'estate è finita e l'altunno è in arrivo come previsto oppure ancora caldo. Le previsioni di Trebi Meteo. Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Vinotti di Trebi Meteo. La giornata di sabato sarà caratterizzata dall'alternanza tra nubi e sole in Lombardia con solo qualche isolato piovasco da segnalare sulle Alpi in serata. Contesto climatico molto mite con punte di 25-26 gradi. Temperature che saranno per lo più stabili anche per quanto riguarda la giornata di domenica che sarà praticamente analoga anche qui infatti in Lombardia non mancheranno spazi assolati transiterà solo qualche nube innocua di tanto in tanto. In dettaglio sulla provincia di Bergamo per quanto riguarda la giornata di sabato il contesto a tratti sarà variabile con nubi alternate a schiarite. Tempo asciutto non avremo fenomeni da segnalare. Temperature massime qui intorno ai 22-23 gradi. Giornata di domenica caratterizzata da temperature massime per lo più stazionare e anche il contesto non varierà di molto. Avremo il transito di qualche anovolamento ma comunque non mancheranno ampi schiarite nel corso del giorno. Infine diamo un accenno anche alla tendenza attesa per le prossime giornate perché dall'avvio della nuova settimana arriverà l'autunno con valori minimi e massimi in generale diminuzione e anche l'arrivo di qualche pioggia. Tutti i dettagli, come sempre, scaricando l'app di Trevi Meteo. Non ci sono ulteriori aggiornamenti per questa edizione. Io vi ringrazio di averci seguito e vi ricordo che potete scriverci a redazionechiocciola6latv.tv per tutte le vostre segnalazioni. Un augurio di un buon proseguimento di serata e un buon fine settimana. Grazie. 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 Grazie.